La prigione è in mezzo al deserto, non arriverà da nessuna parte con questa ambulanza. È una follia, la ammazzeranno come un cane! Ehi, attento! No! No! Non so che sia, ma non la dimenticherò mai! Chi era quella? Piantala di fare il cascamorto! La mangusta e i suoi uomini sono sulle nostre trance! Ho nascosto il taxi e scontro a te! Muoviti, abbiamo poco tempo! Hai capito? No! No! magari no! Maいやas one to76 många domani! Ma il vengo d' Här 쓰� employer! No, non... Sì! Buon appetito! La mezza, la mezza! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.